Luciano Favero, noto per il suo caratteristico baffo, è stato un difensore chiave della Juventus negli anni 80. Con la vecchia signora, ha vinto uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa UEFA. In campo era famoso per la sua affidabilità difensiva e per aver fermato Maradona in una partita memorabile. Con la Juve, ha totalizzato 133 presenze e segnato due gol. Un aneddoto interessante su Favero riguarda il suo trasferimento alla Juventus. Era a conoscenza delle trattative della Juventus per prelevarlo dall'Avellino e mandarlo alla Lazio, quale contropartita di alcuni giocatori. Tuttavia, partì per le vacanze con la consapevolezza di vestire la maglia laziale, ma al suo ritorno, scoprì che era diventato un giocatore della Juventus. Favero, in conclusione, possiamo dire che è stato un giocatore indimenticabile per i tifosi bianconeri.